Facciamo il bruciagrassi naturale. Abbiamo bisogno di semi di chia, due limoni ed acqua. Mettiamo due cucchiai di semi di chia in un bicchiere. Aggiungiamo l'acqua, mescoliamo e lasciamo riposare per un'ora. Nel frattempo spremiamo i limoni. Versiamo il succo di limone in caraffa. Aggiungiamo due bicchieri di acqua, mescoliamo. Di tanto in tanto andiamo a controllare i semi di chia nell'acqua. Poiché diventano gelatinosi, mescoliamo. Trascorsa l'ora, versiamo i semi di chia nel limone ed acqua. Mescoliamo accuratamente e lasciamo riposare ulteriori mezz'ora. Versiamo nel bicchiere e beviamo soprattutto di mattina, prima dei pasti, colazione o pranzo. Questo preparato non vi farà perdere chili eccessivi, bensì aiuterà allo sconfiamento del corpo, soprattutto dalla parte della pancia, e vi darà vitalità e ridurrà i vostri centimetri. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un like.